Ciao, oggi facciamo una decorazione natalizia e la facciamo con il filo metallico e con delle perle che magari vi avanzano e non sapete come impiegare, dovete fare una cosa carina, almeno spero vi piaccia, vi mando un bacione, ciao! Allora, ecco l'occorrente, avrete bisogno di tubettini di metallo, sono questi tubettini che trovate facilmente in vendita nei negozi che vendono articoli per bijoux, sono tubettini che vanno infilati, all'incirca saranno lunghi un centimetro e mezzo più o meno, allora io ho quelli ritorti, però voi potete utilizzare tranquillamente quelli diritti che vanno benissimo, anzi forse stanno anche meglio, come preferite, l'importante è che abbiano un foro abbastanza grande, poi del filo metallico, io ho utilizzato del filo di ferro, potete usare anche del filo placato oppure del filo di rame, del diametro di 0,8, tre segmenti lunghi circa 13 cm, poi un pezzo di filo, sempre di ferro in questo caso, lungo 50 cm, del diametro di 0,4 o anche 0,5 e dello stesso diametro un altro pezzo di filo lungo 20 cm, poi avrete bisogno della solita taglierina, di una pinza qualsiasi come questa, insomma per arrotondare, per afferrare il filo e di una pinza accessoria per stringere, diciamo che questa è opzionale, allora si parte dai tre fili, dall'ossatura, dai tre fili maggiori, che sono quelli da 0,8, segnate su tutti e tre la metà, quindi 6,5, ok, allora adesso ne teniamo da parte 1, che sarà il filo che resterà diciamo così, quello per orizzontale, gli altri due li dobbiamo piegare per avere poi la forma a stella, dunque li pieghiamo proprio a livello di questo punto, prendiamo la parte più larga delle pinze, più larga, ok, e pieghiamo così, facciamo una forma a V, quindi su due elementi, in questa maniera, perché poi noi dobbiamo fare questa cosa, cioè unire tutti i fili per creare la stella, vedete in questo modo, allora questi tre fili vanno uniti, se è possibile, se siete in grado potete saldarli, che è la cosa forse più pratica che ci sia, che si possa fare, altrimenti dovrete unirli con un pezzo di filo, prendete quel pezzo di filo che vi ho detto da 20 cm e cominciate ad avvolgere la parte centrale di questa stella per fermare il più possibile il lavoro, allora sarà, vi dico subito un pochino difficile tenere questa forma, quindi all'inizio forse un pochino non molto pratica, però vedrete che piano piano ci si riesce, tenete come riferimento i punti che voi avete segnato con il pennarello, sicuramente si sposteranno un pochino gli elementi durante la lavorazione, ma questo non deve preoccuparvi perché poi è sempre possibile recuperare alla fine, riuscire a rimettere tutto insieme per bene alla fine, vedrete come, quindi stringiamo un po' con la pinza opzionale o con quello che avete insomma, stringiamo un po', nascondiamo i fili avanzati, segmenti lunghi, allora ecco la forma che ho ottenuto, comincio a decorare utilizzando delle perle, tre perle per ogni raggio, vedete i raggi sono sei, ne metterò tre, la scelta è naturalmente a descrizione propria, come preferite, io userò, ops, ecco, così ho modo di dimostrare che è possibile rimettere in forma la stella, vedete, se per caso si rovina un pochino, ecco qua, allora dicevo, io userò una perlina più sottile per la parte più vicina al centro, di modo che le perle possano stare un accanto all'altra, diciamo senza problemi di spazio, perché qui ce n'è di meno, qui al centro, quindi infilerò una perla così, poi infilerò, vediamo questa, questa simil Swarovski, poi una terza perla, quella che preferite, io vediamo questa, userò questa, è un'agata rossa, vedete, ho fatto il primo raggio, arrivati a questo punto prendiamo il filo lungo 50 cm e lo infiliamo nell'ultima perla, in questa, praticamente lo fermiamo, allora, quindi il foro di questa perla deve essere abbastanza grande, se no poi avrete dei problemi, facciamola salire un po', se no qua non passa, ce la faccio, eccolo qua, allora, deve avanzare praticamente una codina, una codina di un paio di centimetri, che è quella che noi useremo appunto per fermare il filo, quindi arriviamo fin qui, più o meno, allora, avete visto? Dunque, qui si è un po' sformato, lo rimetto al posto, ecco qua, spero si possa vedere bene, dunque, rimettiamo le perle una accanto all'altra, allora, adesso prendiamo in considerazione proprio questo filo sottile e su di esso, su di esso, infiliamo altre perline, io ho scelto dei cuoricini e farò tutta la sequenza delle perle che saranno su questo filo con i cuoricini, voi potete scegliere quello che volete, più o meno il diametro, diciamo 6, 8 mm va benissimo, perle rotonde vanno benissimo, anzi, forse anche meglio rispetto ai cuori, io avevo questi e userò questi, infilo prima un cuore, poi un tubicino, poi un altro cuore, non guardate al fatto che è un po' più piccolo questo cuore, ripeto, sto usando perle di recupero, allora un altro, scusate, un tubicino, eh no, manca il tubicino, un tubicino ancora ed un altro cuore, ora vi mostro tutta la sequenza al posto dove deve stare vicino al raggio e vi sarà chiaro tutto quanto, allora scendo, 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 questo è uno dei momenti più critici, diciamo così, dunque adesso vi faccio vedere cosa è successo, guardate, eccomi qui, vedete cosa ho fatto, ho infilato un cuore, un tubicino, un cuore, un tubicino, un cuore, ok, e questa sarà la sequenza che ripeterò sempre, di continuo, allora adesso, prima di continuare, prendo in considerazione il secondo raggio ed infilo anche qui le perle, eh naturalmente anche qui potrete fare come preferite, io farò, metterò le stesse perle di prima, la stessa sequenza, voi potete variarle, vedete un po' come, come preferite, quindi infilerò la perla sottile, il simil Swarovski, Swarovski, la pronuncia esatta, allora poi la pietra d'agata in questo modo, vedete, ok, allora adesso posso fermare il filo più sottile attorno al secondo raggio, io faccio un giro, semplicemente un giro attorno così, allora non vi preoccupate se si sposteranno un po' i vari raggi, rimetteteli insieme, non vi preoccupate, perché poi alla fine si sistema tutto, vedete dove siamo? Ok, allora adesso, di nuovo, infilo sul filo più sottile, ancora una volta, un cuore, un tubicino, un cuore, un tubicino, un cuore, qui si sposta tutto naturalmente, non vi preoccupate, poi vi faccio vedere esattamente com'è la posizione, allora un cuore, un tubicino, un cuore, tubicino e cuore, ok, porto a fine corsa, in questo modo, eccomi qui, vedete, allora adesso infilo le perle, prima di chiudere anche questa seconda parte, secondo segmento, infilo le perle sul terzo raggio, e sono sempre la perla sottile, la simil swarovski, eccola, poi, 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 la pietra d'agata, eccola qui, allora, siamo a questo punto, ora, fermerò il filo sottile attorno al raggio, un giro, ok, è sufficiente, allora, proseguo così, allora, abbiamo quasi finito, eh, dunque, di nuovo cuore, ok, tubettino, cuore, tubettino, cuore, tubettino, ok, altro cuore, porto giù, porto giù, porto giù, siamo qui, ultimo raggio, ecco, siamo arrivati praticamente alla fine, quasi alla fine di questo lavoro, dobbiamo innanzitutto fermare i due capi del filo di ferro, il primo che avvolgiamo intorno allo stelo per due, tre volte, e che poi possiamo tagliare in questo modo, poi lo fermiamo con una pinza, una pinza qualsiasi, con questa, per esempio, in modo che non tagli, che non si veda, ok, portiamo giù la perla, e fermiamo anche quest'altro filo, facciamo qui sopra, al di sopra di quest'altra perla, vedete, un paio di giri, due, tre, anche, e poi tagliamo, ok, poi di nuovo, di nuovo nascondiamo, eccomi qua, nascondiamo questo pezzetto di filo che avanza, schiacciamo un po', allora siamo a questo punto, possiamo dare una sistematina, naturalmente, allora adesso non ci resta che decorare, guardate come cambia se sposto i tubetti ritorti, se li metto in questo modo, se li giro praticamente, cambia già moltissimo, allora dicevo, adesso dobbiamo decorare questi ultimi spezzoni, infiliamo una perna, qualcosa che possa starci per dimensione, grandezza, ok, io prenderò queste, allora, l'accostamento è un po' audace, diciamo così, però queste perle avevo, queste perle vorrei utilizzare, sono viola, voi potete usare quelle che volete, l'importante è che la grandezza non è indispensabile conoscere di che grandezza, l'importante è che ci stiano sopra questi monconi, allora cominciamo da questo, ne infiliamo una, ok, in questo modo, dopodiché per fermarla nella posizione, piego leggermente questo filo e faccio un'asola, ora se trovo la pinza, ecco questa con le misure per l'asola già preimpostate, meglio ancora, facciamo un'asola e continuiamo avvolgendo l'asola fino a fine corsa, ecco abbiamo fatto una chiusura, adesso prendiamo un altro moncone, poi naturalmente se vedete che c'è da sistemare la lunghezza di questi pezzi di filo, lo fate tranquillamente, ok, in questo modo, perché si spostano ancora un pochino, poi quando bloccherete con la perla non si muoverà più nulla, allora mettiamo un'altra perla qui, poi se stessa cosa, anzi pieghiamo da questo punto, così l'asola viene meglio, e avvolgiamo il filo, ok, così, di nuovo anche qui, questo probabilmente verrà un po' più lungo, ma si può sempre tagliare, se c'è qualche problema di lunghezze, così, ah, non ho ripiegato l'indietro, però posso sempre rimediare, se voglio rimediare, ok, ho quasi finito, ci siamo, vedete come comincio a prendere una forma discreta, per ultimo, e ultimo, ecco qua, ecco, allora, guardate, siamo arrivati alla fine, allora, l'ultima cosa che ci rimane è da fare, dopo averla, avere sistemato i raggi, magari, insomma, a seconda di quello che abbiamo ottenuto, possiamo, quindi, infilare, magari, del filo, altro filo metallico, del cotone, del, non so, un cordoncino, quello che volete, per creare, naturalmente, l'asola, per appendere, poi, questa decorazione natalizia, spero vi piaccia, ciao! Grazie! 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 Grazie!